Salve a tutti gente, sono ritornato finalmente dopo tutto questo tempo, l'ultima volta avevo parlato delle kidney, poi giorni fa feci un video a zoo marine ai dinosauri, ebbene oggi farò un video molto importante dove vi svelerò dei perché. Parleremo della selezione naturale dei predatori, della caccia in branco, ovvero del ruolo che hanno i predatori nelle zone in cui vivono, in particolare nella natura. Parleremo di ogni genere di predatore, ma solamente di mammiferi oppure pesci, cartilaginei, si tratta di squali. Ebbene vi svelerò perché i carnipori mangiano gli erbivori, iniziamo subito. Tutti i predatori nel mondo hanno un importantissimo ruolo ecologico per l'equilibrio naturale, e cioè quando vivono in branco devono cacciare le prede giuste, controllano le popolazioni delle loro prede e predano possibilmente quelle più deboli o malate. E dopo più avanti scopriremo il perché. Un buon esempio di questi predatori è specialmente il lupo. Un altro predatore in grado di questo ruolo è soprattutto il leone. Cacciano efficacemente in branco, soprattutto le leonesse. Ma un altro predatore davvero efficiente è soprattutto il licaone. Anche loro sono bravi nella selezione naturale. E adesso più avanti vedremo perché. Tuttavia ci sono dei problemi. Spesso tra questi grandi predatori, si parla di leoni e iene, ci sono delle divergenze. Ma il leone e la iena maculata condividono la stessa nicchia ecologica e quindi anche le stesse prede. Ma in questa eterna competizione non esistono i buoni e non esistono i cattivi, contrariamente a quanto si vede in quegli emblema di generazioni, eccetera. E adesso parleremo dei predatori maggiormente rispettati in Africa. Una bella lista come vedete qui. Le ho sistemati in ordine decrescente di dimensioni. Leone, iena maculata, leopardo, ghepardo e licaone. Iniziamo subito. In Africa la natura ha assolutissimamente bisogno del leone perché aiuta l'ambiente a mantenersi sano. Controllano le popolazioni delle loro prede e predano possibilmente le prede più deboli o malate per evitare che malattie si diffondano sul territorio e compiono così un ottimo lavoro per la caccia e quindi tengono sotto controllo le popolazioni delle loro prede e si mantengono sane. Passiamo al prossimo. Anche le iene sono efficienti cacciatrici, però ci sono da sfatare diversi miti su questa specie. C'è la credenza diffusa nel mondo che la iena sia una mangiatrice di carogne e che spesso arrivi a rubare le prede che altri animali hanno faticosamente cacciato. Niente di più sbagliato. E' stato osservato come in Africa il 90% di quello che le iene mangiano è stato cacciato e ucciso da loro. Ma ovviamente se c'è una carogna nei paraggi le iene se ne approfittano e non se lo fanno ripetere due volte. Ma chi non lo farebbe? Ogni animale deve essere opportunista, si sa. Anche il leopardo è molto importante per l'equilibrio naturale. Però questo non significa che assuma un ruolo ecologico che faccia di lui un predatore dominante. E' spesso predato e ucciso da leoni, iene e pure da tigri. Ed è un predatore che vive solitario. Anche lui può possibilmente regolare il numero delle prede. E altri animali che vedremo più avanti. Ma sul leopardo c'è da dire un'altra cosa sempre sulla selezione naturale che avrò spiegato nel video al melanismo a cui vi rimando. La maggior parte dei leopardi melanici si trova nelle foreste che operano una sorta di selezione naturale favorevole su questi esemplari che si possono mimetizzare facilmente. Anche il ghepardo è importantissimo per l'equilibrio naturale ma comunque un predatore che vive solitario. Ma che a volte può formare piccole coalizioni per cacciare. Ma non cacciano quasi mai come un vero branco. Inoltre il ghepardo nella savana è il predatore con la vita più dura perché si sa è più veloce che forte e quindi se la deve vedere con tantissimi predatori. Oltre che all'estinzione a causa dell'uomo. Ma in Africa il licaone ha lo stesso ruolo ecologico del lupo nell'emisfero boreale che vedremo più avanti. Come nel lupo sì, esiste sempre una coppia dominante che è sempre l'unica a riprodursi ma è anche quella a fare più cuccioli. I licaoni sì, fanno la selezione naturale come ogni buon predatore che si rispetti. Scelgono le prede più deboli o malate controllando le popolazioni di erbivori e contribuendo così al mantenimento di una popolazione sana di prede. Inoltre il branco dei licaoni non si dedica sempre soltanto alla caccia ma anche e soprattutto al gioco. Stessa cosa accade anche fra i lupi ma mai fra i felini, soltanto con i cuccioli. Allora, siamo giunti alla parte più importante di questo video che poi potrete sicuramente commentarmi. Allora, parliamo di come fanno i predatori a tenere sotto controllo le popolazioni di erbivori e a mantenerle completamente sane. Allora, predano soprattutto le prede più deboli o malate. Queste che vedete qui ovviamente sono zebbre e loro le individuano, tendono a guati oppure partono all'inseguimento. Poi le uccidono soprattutto quelle malate per evitare che malattie si diffondano sul territorio e contribuiscono così al mantenimento di una popolazione sana di prede e a un ecosistema sano. E non funziona solo con i mammiferi funziona anche nell'ecosistema amerino che vedremo alla fine del video. Fino adesso vi ho parlato di come si svolge l'equilibrio naturale in Africa adesso negli altri continenti quindi Europa, Asia e America ed ecco qua la lista Lupo, tigre, leopardo delle nevi, lince, puma e giaguaro Allora, il lupo è praticamente l'animale a cui questo ruolo si addice di più infatti nell'emisfero boreale sono molte le prede che caccia e quindi tantissime popolazioni di erbivori che tiene sotto controllo le prede quelle più deboli o malate contribuendo così al mantenimento di un buon equilibrio naturale e questo fa di lui una specie cruciale e importante per l'ecosistema locale dell'emisfero boreale In Asia la tigre, almeno in buona parte del suo areale assume un ruolo ecologico molto importante il ruolo di predatore dominante che può facilmente regolare il numero delle prede e contribuire al mantenimento di una popolazione sana di prede e quindi un equilibrio naturale Anche il leopardo delle nevi assume il ruolo ecologico di predatore dominante poiché nelle zone in cui vive è l'unico predatore rimasto ed è quindi per forza costretto a regolare il numero delle sue prede e ci riesce davvero bene poiché lì è lui il predatore dominante e ne mancano altri La lince, detta anche lince eurasiatica è il più grande felino dell'Europa e quindi ha anche lei il ruolo ecologico di predatore dominante nell'emisfero boreale regolando il numero delle altre specie quindi delle sue prede ma essendo diversa dagli altri felini ha altre abilità per cacciare Nel continente americano oltre al lupo anche il puma ha il ruolo ecologico per regolare il numero delle altre specie animali ma può essere un grande competitore per i lupi o altre specie In Sud America il giaguaro assume lo stesso ruolo ecologico della tigre cioè quello di predatore dominante riesce a regolare per bene il numero delle altre specie animali E adesso questa è l'ultima parte del video parliamo dei predatori dell'oceano e si parla sempre di mammiferi ma anche e soprattutto di squali Iniziamo L'orso polare è ormai penso che lo sappiate già tutti il carnivoro terrestre più grande di tutto il pianeta ed infatti è praticamente l'unico predatore che vive ai poli che vive al polo nord e anche lui riesce a regolare il numero delle altre specie animali soprattutto le popolazioni delle renne dei trichechi delle foche e anche dei cetacei che caccia quindi beluga e narvali ma purtroppo è minacciato sempre dallo scioglimento dei ghiacci e dall'inquinamento come tutti i predatori terrestri che cacciano in branco che abbiamo visto prima anche gli squali hanno questo importantissimo ruolo infatti sono importantissimi per l'ecosistema marino tengono d'occhio le popolazioni delle loro prede e predano sempre quelle più deboli o malate e fanno il loro mestiere per mantenere l'equilibrio naturale ma se c'è un predatore del mare che riesce a gestire completamente l'ecosistema marino quello è l'orca sì avete capito bene l'orca l'orca è proprio in cima alla catena alimentare per quanto riguarda l'ecosistema marino può cacciare qualunque tipo di animale marino ma su questo c'è da fare un grande discorso allora le orche si sa cacciano i branco e l'esemplare più grande con la penna dorsale più alta è sempre il maschio però questa cosa che vi sto per dirvi è la legge della natura sono dei predatori tutti i predatori che ho detto adesso ve lo dirò ora si chiamano predatori alfa suè che sono in cima alla catena alimentare predano e non vengono predati da nessun'altra specie insomma sono tutti parte del cerchio come lo siamo noi e gli altri animali questi animali per vivere devono soprattutto uccidere e per un predatore questo significa che qualcun altro deve morire è la legge della natura bene gente ragazzi per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto lasciate un mi piace un commento iscrivetevi a presto grazie a tutti